Ora ragazzi, come sapete, tifoso della Juve, tifoso del Parma, oggi però si fa la finale di Supercoppa italiana Milan-Inter, dove io otterrò l'Inter e lui ovviamente il Milan. Il vecchio Ibra. Sarà una partita tosta, combattuta come tutti i derby. Beh, 30 minuti, succosissimi, che vi potete godere con pochi poti. Quindi mettetevi comodi, Popcorn e Coca-Cola, spegnete le luci. Non puoi fare la pubblicità, lo sai. E silenzio. Non devi dire il Coca-Cola. Vedete quello che vuole, acqua. Via. Adesso parte Ibra, calcio d'inizio. La passa è Kessy, Frank. Guarda il Milan. Frank Kessy. Che finalmente abbiamo una formazione competitiva, poter giocare e tutto è subito fuori. Che si, che gioca il Barcellona, però è ritornato dopo questa partita al Milan. Ti gusto. Si fraseggia. Squadra che si studiano. Ci tuffa. Le hao, po' ma il tuffao. C'è un pressinforzionato del Milan. Che non concede il respiro. Che stimpia. E riparte in controllo del pazzesco. E conquisti. Bravo. Fa l'idea che anche se sono tre e tre minuti si interviene così. Quando sei sicuri del proprio intervento. Bravissimo. Distruggili. Va bene. Vacca. Vacca. Ha un tiro da 150 km. Per scappare a te. E brava, la stoppa lì. Vacca. Bravo, le bravi. Distrutto. Bravissimo, vaccaiocco. Buon bravo. Le hao. Le hao. Meraviglia. Che meraviglia sto le hao. Dove vai, le hao, meraviglia. Doi ciao. Cambia giocao. Ciao. Che spettacolao. Che spettacolao. Dai, che gioca solo di prima. Se solo giocare di prima. Noi facciamo i dribbling. E ci portano, non gli dice niente. Abitro. Fai schifo, abitro. Veramente. Sei inguardabile. Non meriti neanche di avere un cuore. Buon. Ma cosa fai? Alleggerisce. Ancora. Lob. Tocchetti. Guardate cosa fanno che i ragazzi qua. Ci permettono dei luci incredibili. Va che roba. Bravo, arrivato prima. Ottimo. Bravo quel petto. Lo riconquisti. Che smiga. Che smiga. Bravo. Riconquista. Filtrante bellissimo. Niente. Non c'è. Dai, andiamo a rincazzare anche dentro la loro porta. Dentro la loro porta. Bomba lì. Bomba lì. Che bocca. Va al tocco qua. Mamma mia. Ma che ti l'ha butto dentro? Se te lo vado non è neanche qua. Devo farti sorprendere. Devo dire. Anche te qua fa quel numero qua. Ma che bello mamma. Mi sbutto la via. L'arabito non dice nulla. Per tutte le armi. Neanche qua. Quanto fa. Lo so. L'arabito non dice niente. L'arabito non dice niente. E qua si gioca bene. Guardi da. Molto tattica. Combattuta ragazzi. Vedete? Cosa fai? l'autogol terribile. Va bene. Dribbli. Mette in mezzo per ibra e devrai. La mette frappare il portiere. Dove sei morto? Dove sei morto? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Nel campo. Ibra. Ibra. Un bel lob bellissimo. Precisissimo di ibra. Fai lo voglio eh. Lo voglio eh. Lo esigo. Ibra? Toccato duro? Toccato duro. Toccato duro. Toccato duro. Ma carezza. L'avvio ne ha dato. Rete. Bomba di ibra adesso. Lo voglio. Dritta per dritta. Boom. Ah. Intervieni eh. Sulla bomba di ibra. Attesa. Guarda che volo che vado. Ibra. Guarda che volo che vado a stare. Dai dai Milan 2-0 vediamo. Tanto che sono maturi i gol. Oh che sfiga. Riconquisti. Bravo però. Riconquistare. Buonissimo. Bravo. Stupendo. E' firma e fallo lì eh. Ah boh. Dove faccio. Che sei sui scusi. Voto 7. Arbitro milanista. Ah ah ah. E' incredibile. Voto 7 però che sei Frank sulla sinistra. Guarda la sposta è bellissimo. Ah bello. Ah ah ah. Su qui. Avendo un gran fallo. Ah ah ah. Quello non è che è un gran fallo. Il problema è che. Mi tocchi la puntina del piede e io mi cazzo. Grande dai. E' del calcio di rigore. Non ci credo. Ho fischiato un rigore. E' del calcio di rigore. Ah ah ah. E' del calcio di rigore. E' del calcio di rigore ragazzi. Vabbè va state bene domenica. Va va va. Ha fatto va. E poi concetto. E' stata una roba vergognosa qua. Ma culo di rebis. Eh 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 eh. Bige. Balla piena. Avete visto tutti eh. Ora ho la tecnica per farlo sbagliare i rigori. Però guardate che si muove l'oretti. Vedi che funziona la tecnica. Sai com'è la nuova tecnica per battere i rigori di l'oretti? Siccome li tengo sempre a centro della porta. Adesso continuo a fare il movimento tutto il tempo appena vedo che batte. che si meritato 7 e mezzo siamo per ora. Un rigore. Un autoguole un rigore. Guarda. Palla. Spostata là. Io ho bisogno toccare il piede. E' incredibile. E' incredibile. Guardatelo. 2 a 0 a 1. Bene Milan. Va bene così. Continuate così. Facciamo una bella umiliazione. La festa inter. Con che si sugli scudi. Non gli rompi le uova nel paniere che si. Non gli rompi un pallone. Mi ha detto che lo sono fatto rubare. Che idiota. Dai là. Chiudi. Adesso però. Chiudi. Bene. Bene. L'avete gestita bene. Perché avevo già visto che meccanate in infilata. Invece non l'avete presa. Bravi. Bravi. Il sedicesimo. Un bel 2 a 0. Prendiamo la palla qui. Con Ibra che fa le sponde. La prendiamo che di fortuna. Va bene. Ancora che si. Sugli scudi. Lavora tutto. Fa tutto lui. Ibra bomba. E la trattieni eh. No Ibra. Primo guizzo anche per Ibra. Ma che cos'è questa roba? Controlli senza volere. Faccio anche. Aggressivo il Milan. Che roba. Aggressivissimo. Che gatto. Calabria. Puglia. Che schifo. Mila Romagna. Che si bomba in faccia. La respinge con violenza. Ancora Frank. Che riparte? Non lo ferma? No. Era Loeb. Era Loeb. È incredibile. Un altro male inesistente. Era Loeb di così. Dai. Ma dai. Badaglila bene. Che Frank è già lì in sua posizione. Dai su. Dai che sono da soli. non possono nulla contro lo strappotere fisico del Milan strappotere, non è mica il palma eh la trota 5 a 1 questo è il Milan vai che si riparte con le hao, meravigliavo bravo, gestiscila, vacca che roba ma siamo duri, siamo duri, non li facciamo respirare niente, appena lo dico devo stare lì, vacca non c'è nessuno, dai chiuderemo mamma mia aiuto, cosa facciamo le cagate, tocca l'altra, bravo, gestiscila interruzione, no, si va, si va no, l'ho nullata, l'ho nullata, stavo beccando gol, l'ho nullata ragazzi, sono riuscito, incredibile stavo beccando gol, terribile, dai dai, va bene, dai, chiudere, bravissimi, caparbi ci siamo no, questo è uno schifo questo no invece è bella questa palma per Ibra, peccato Ibra sbuttona via tutti vai boom, in faccia che sì, violentissimo, tacco riparte ottimo eh, che sombrero, junior messia, ma che fallo però niente, gli dici, la sombrero? scusa, tutelami sombrero tutelami sombrero dai che non respira è sott'acqua, questa Inter cosa si inventa? ma si inventa l'Audi ti ha l'Audi? un controllo bellissimo mamma mia, solo così potrebbe succedere non si è mai capito niente di come è successo controllo stupendo dell'Audi facciamo quasi diverzata col tasto invece non l'ha mai fatto, ma no vabbè, ragazzi, 2-1, non è finito siamo al ventisesimo però non state giocando male vi siete un po' lasciati dai, ricomincia non giocare bene non giocare di merda va bene, dai, riparti che controllo che si, Frank fa monia si, eh usa un po' di contropiede palla del portiere vada che si che si gira come un pomo ammollito si, già, giusto non è che ti fai spegnere di marco se continua così perché si, 8 fino adesso di prima bellissima e la manca più che però precisa è bellissima però se la dai precisa se no dite uno schifo diventa bene che cazzo ho fatto l'ho fatto l'ho fatto ottimo passeggio va bene allora all'ultimo uomo rosso eh ma che ultimo uomo non mi piaceva lo può essere di testa poi secondo me che roba sarà mica fai una corner da sotto la scella e cosa vuoi che sia come non mi munisce neanche? è incredibile è giusto, è giusto andavi a letto al massimo l'hai letto, te l'ho detto ma cos'è? punizione per questa cosa qua hai preso un rigore che era ridicolo se becco il gol qua è veramente uno scandalo ma che roba? fischi a fare per che cosa? non si sa cosa succede e va che gli insulti è giusto, apri gli occhi gli ha detto che scandalo qua veramente parala bravo che roba su hai i golettini uno lì? ce la fai? bravo apri il gioco bellissimo Imbra dai aprilo però questo gioco ce la fai? ce la fai? bravo bravo eh ma ci siete o no? o giocate? bravissimo lì ci pare molto bene calvanca yeah ufff 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 che roba ho visto un pallone di culo gestita male ragazzi però gli dobbiamo fare il 3 su quell'errore pazzesco della difesa interista ce l'ha da fare il 3 ancora lui no non è lui è questo lui ci arrendono lui lo buttano in farlo laterale ma lui è chi? chi è questo lui? che si? chi è questo a Cassi? si vuoi che sia Cassi no? e lui è Cassi miglior giocatore della partita perchè? perchè finora ha fatto tutto lui ecco ancora lui non è lui non è lui no è lui è lui che si? è il miglior giocatore della partita va fa tutto lui va che roba è e poi c'è bravi bravo ottimo ma che stifone per l'anticipo lì? si vede anticipato un pollo bravissimo ma vai o no? muoviti ma che roba è? ti fai guardare così? pallone vai vai letto dai che ripartiamo si ho visto bello bello che bravo che bravo stai cercando di fare dei numeri incredibili buonissimo di faccia si oppone che si ancora il migliore ancora lui scambia con i compagni entra l'aria di rigore ancora Franco sta colato il calcio d'angolo basta basta come no? calcio d'angolo? e vada povero che si meritare in cielo ma che cosa fai? mamma mia bravo bravo bello scambio ottimo nooo ancora si si sta benissimo arnandez mi tieni dietro ma che tieni dietro un cazzo ma che trovi arnandez c'è un bel numero comunque vai l'azione ragazzi beh vabbè è un benissimo controllo 9 e guarda cosa stavo facendo e guarda cosa stavo facendo e cazzo d'angolo nooo e si e si ibra e mezzo cross di ibra vedo ma mia paura grazie ha crossato ibra non so perché su ottimo vuoi gioco? ok che bella palla arrivo 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 niente non arrivo più ancora che adesso è impossibile ma ragazzi ibra e mezzo che bella palla oh una rasoiata di ibra mori di poco è mille che insiste a cercare il 3 a cercare 3 a 1 3 a nulla la bravo bravo calcolato il millimetro bravo ibra bravo comunque sei utile bravissimo sei utile comunque toccate l'angolo lo voglio oh ma non si ferma mai lo voglio lo voglio l'arbitro chi batte l'angolo si ancora ibra a battere gli angoli ma cos'è? qua non ci sta è tiratore lo cambiamo perché non è possibile vedere ibra torre abis batta lo tecnico è schifo che ti fai schifo? ma l'ho selezionato ma no l'ho fatto ok non sono capace neanche di selezionare via in mezzo dai arrivi per favore non c'è nessuno non c'è nessuno guarda che schifo bravissimo si pare dai vai o no? a chi? guarda che ho si sbaglia tutto giocatore cambia tutto vuoi cambiare è bello spissato tranquillo è bello ma dove va? rigore? cosa c'è? no è fallo tuo di là eh è incredibile fallo mio si certo fallo mio perché? perché controllo la palla e poi boh non so cosa succede quello è calcio di rigore te lo dico io addirittura esagera ma i fraseggi con la tecnica questo Milan e se ne va questo Milan bella frenata di Leao mette in mezzo meraviglia che cross peribola comunque viena lì indietro in Gaby ora lo arrivano i podi arrivano i podi veri qua a pulire a niente ti perdono ma non ci credo questa volta ti perdono ma non ci credo ma non ci credo le 30 minuti abito figlio di puttana eh si non si può abito sei un figlio di puttana no non si può figlio vai schifo dai non si può ma si può ancora no non si può regala un vigore non fischi a fare i già una roba da matti abito fai schifo però non sei quello che ha detto Leao e la deve smettere se no mi chiudono il sito come vai a cagare è un bastardo eh dai che siamo belli eh che belli che lancio è ma neanche più io devo fare la roba qua eh ma cos'è? giochini uno dopo l'altro ancora tu ti va l'opera devi chiedere scusa se ti voglio del meno se vincono se vincono non chiedo scusa a nessuno anzi mi dovevano chiedere scusa l'opera aver dubitato di me eventualmente di me i numeri ed è un mila in vantaggio che schifo era 2 a 1 questo primo tempo ovviamente possesso umiliante per il mila con un 58 i tiri sono 4 a 3 in corta per il mila e vabbè usati cantina che cos'è? devi interrompere o andiamo avanti? andiamo avanti andiamo avanti no andiamo avanti non guarderemo secondo tempo eh 58 di possesso eh 8 mila venirebbe il 3 a 1 questo mila se ci fosse una giustizia adesso sarà l'abito ti regalerò io ancora giusto ma va che fallo io tolo calma eh ragazzi ma calma la patica finisce qua eh dovete stare calmi ci sono ancora 45 minuti doveva finire in 2 che roba lui ha tradizionato indietro è distrutto che baccaiocco bella ripartenza Milan Raffaele Raffaele niente non ha spesso niente lasciamo andare la ventilazione e poi dobbiamo unire però cioè non fare scherzi eh che bel tacco che stanno cercando di fare eh bacca buonissimo che si sei comunque spinge con la sua potenza proverbiale Frank Frank cerca di numeri pazzeschi e c'è anche di fare un gol magico cazzo di rigolo eh quello ha fischiato non ci credo io ci credo ma non ci credo quello ha fischiato adesso io ci credo il sombrero mi portano vediamo se il sombrero mi porto in aria qui il sombrero e lo portano fuori aria sei fortunato che fuori aria poi che si va a dire pariare fallo e ora davanti ma bene dai un'altra posizione regalata e te i di no ma che schifo mamma mia che schifo ma abito sei proprio un pezzo di no e pezzo di e quello lo puoi dire pezzo di si puoi dire ma che testa di che si ancora tri mi fallo però eh si su e fallo non c'è ricordo sia la tecnica ormai ce l'ho con che si impressionante che si ti deve saltare impressionante guarda sulla sinistra vai di qua ma abito che cazzo è oh eh si ma abito i piolli cosa vuol dire piolli dai la ah ah non vuol dire piolli figa non è la tua del vino un po' ah 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 non ho capito ah 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 ma che schifo to bambole inter dai profittiamole c'è una riga lì tracciata in aria cosa è quella riga lì è il gesto di prima su punizione che si tira boom va che sulfanze va che incredibile c'è un po' del centrocampio e falli così falli così no perché è il cocco no sarà mica baglio cocco eh è incredibile razzo sotto la doccia no io sono allibito l'ingenuità volevo farlo uscire prima non l'ho fatto uscire che idiota c'è che baglio cocco bagcaio cocco va che che ingenuità che terribile adesso adesso ci vuole tutta la nostra rinta ragazzi adesso veramente ci vuole difficile però nelle difficoltà si sa che i duri come noi che i duri lottano che bravi vai che bella a te a te l'ho detto che era benissimo ti guarda qua boom fuck sto tirando la mia mila del centrocampo il Frank è che incredibile incredibile e torna che si Frank non serve neanche perché ci sono i suoi compagni no alla fine serve anche lui bravi bravi come fa come fa quello lì ma ci vedi bravissimi cosa c'è a boh poi ti vuoi regalare la punizione non è che è una punizione impossibile però fa che gli ha regalare la punizione defilatissima guarda qua non lo fai come ti non va non lo fai come ti non va e ce l'ho da più e tira bene pulisci e ma gnam aia figata che male sono un crampo ragazzi e te è mezzo pericolo non va bella tecnica guarda che bella niente questa merda qua bravissimo dai col cuore cosa fai idiota va bene chiusa bene scambia non bene in difesa ci siamo servati da una cappella è terribile e riparte il Milan che si che la vuole non gliela danno stavolta ma il Milan che proseggia bene ma il controllo dai però ci sei con il quale o no? no eh bravissimo intercettato ma sei ovunque che sia anche di culo intercetti mi pare che intercettero che si intercettero bravi con il cuore pizza pizza niente mi pare tutto di prima mi pare tutto di prima ma non servirà a nulla perché siamo il miglior e vai che c***o è? e vai che c***o è? guarda che non mazzo guarda che non riesco mazzarlo schiaccio tutto e io eh? non sarà mica bene e le c***o di rigo e si non ho fatto assolutamente niente innocentissimo finchè mi hai tirato in porta hai visto? hai beccato le mie caviglie le tirate lo dico io infatti l'abito mi ha giustamente premiato non avevo toccato il joystick fighe sarebbe stato il massimo va bene Milan però basta rischiare dai mudo sai il mudo di Milan bravo porta la croce fallo su Cassi che porta la croce voto 8 cos'è? la munizione l'espulsione? no va bene gli fa munire tutti i Frank con la sua tecnica guarda la tecnica guarda la tecnica oh vi ha sposto e lo colpiscono come al solito vabbè potete portare che si Frank dai butta la lava e giro dai muoviti però lui ci vuole il pirlo numeri ma un po' di c***o no eh che sfiga incredibile bravo era potenzialmente pericolosissima quella palla lì bravissimo bravissimo il primo deve cuore parla di m***a e va che mi butta via è the save no non ci credo the save of the year non ci credo il salvataggio più incredibile che abbia mai visto sul colpo di testa non ci credo l'analizzeremo al replay ma è veramente un salvataggio incredibile secondo me è bellissimo questo salvataggio lì te lo dico è un cross per eh sì siccome sì ancora lui ancora lui no non era lui stavolta no bravissimo comunque veramente bella magnan bella palla però le au che cavalca meravigliau se ne va stavolta lo tirano giù no non lo tirano più giù vada dietro i compagni intelligente che la mettono in mezzo mirata niente ma si arriva ancora lui bomba di che si deviata che c**o non è andata dentro e qua che roba è vedi tenere qua tenere qua tenere qua sulla fascia che pericoloso la cosa tranquilli no no l'avevo già vista va bene pizza là bravissimo ma dove vai non lo schifo questo qua anticipo bellissimo stupendo oserei dire ma dai bravo ottimo ottimo il tocchettino bellissimo Meritani bomba Libra niente ma Libra gli devi far gol cioè Tardelli, Scirea eccetera cioè non è chiuso vedi l'olimpica bellissima azione l'Ibra di prima di far gol fu reale lo dico bello inserimento però dai è nostra è nostra ancora nostra vabbè bel Milan dai non c'è fuori gioco è tecnica 9 no fighe era 9 lì no fighe era 9 lì no fighe era 9 lì mi ha buttato via grazie fighe era 9 sembrava stai spizzi via la butti via bravo tocca là tocca là bravissimo l'avevo capita 3 anni poi lo butta via a sportellate un puglio in fossa un puglio in fossa un puglio in fossa ma ti rendi conto questo è una rossa hai tirato un puglio così non lo tirava ci vede bene quella sbracciata certo sbracciata terribile guardate che sbracciata sbracciata in pieno volto ditta negli occhi che schifo puglio in fossa anche qua ma poi lascia andare l'abito finalmente e numeri qua se ne va bellissima lo tiene dietro e se ne va bellissima e se ne va crudeli mina che cerca di segnare con dei numeri paurosi dai svegli qua eh non si sveglia cosa? una stronzata di igua cia cazzo un pallonetto credo che uscì ci veniva lo spettacolo ci veniva ma non ci è venuto perchè non si è riuscito bravo lo affonda affonda la flotta conto erano 10 no non erano 10 era 10 ok a sorpresa batte l'interno che schifo non aspetta l'iter che bravo il Milan a chiudere lo sportella via la tocca la tocca è nostra sarà mica l'angolo ah boh bravissimo dai ragazzi che siamo in 10 noi dai giochiamo a fondo l'iter invece che a fondo la flotta noi va bene va bene ottimo perno ce ne andiamo oh è bella? no fa schifo fa schifo quel passaggio qua fa schifo è andato è andato è andato è andato vabbè si fa quello che si può ragazzi siamo uno in meno si fa quello che si può ottimo 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 fortuna vai o no ti fai vedere o no? è giusto sta roba dai no sta qua ora prendiamo e fa che roba l'ho fatto l'ho fatto bravo bravo sentalo come un pomo bravissimo che lancio è? ma che sfiga cosa importa ormai mamma dai che recuperiamo da ogni canto da ogni cantone dai non può da solo fa tutto ottimo 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 nooo eh cercavo troppo dovevi fare un lob mentre controllavo il pallone era troppo bravo a divincolarti così a ripartire ottimo ottimo dico dietro bello ma che numeri faccio? no troppo era troppo veramente era troppo bello a capa che chiave dai che bravi ragazzi si riparte qua no era bello l'udere però dai eh non si riesce non si riesce non si riesce non l'avo t'ho visto? ma che se t'ho visto? dai che ce l'hai malinteso qua è bellissimo un tiro da cento chilometri vabbè anche per i cento chilometri che se si segnava non lo annullava anche c'è un cambio c'è un cambio c'è un cambio anch'io faccio un cambio mettiamo le a un po' più indietro perché qua è duro ragazzi bisogna cercare di fare quel che si può bisogno di messia il giro e il chiaia è giusto cambiarlo non possiamo fare tutto con tutti i giocatori moniti rischiamo anche un altro rosso qua ragazzi è ormai qua è 2-1 da quando è stata l'espulsione siamo secchi lì su 2-1 a cercare di tenerla d'altronde gli ho fatto anche troppo dai ragazzi dai cuore rosso nero palpita il cuore qualche minuto e portala a casa un po' che cosa ragazzi cercano l'imbucata centrale si vede tutti attaccati come delle bestie guardate le vanno una stagna di giocatori un quarto d'oro un quarto d'oro mi devo tenere non è facile magari fare un bel tra uno sarebbe ma vedi tu vuoi che scrivo ma non vai è morto boom bello spesso arrivi però è ottimo e guardate che roba è è morto guardate che bravo Radic guardate che numero di Radic le bombe ci mancava solo il gol le dribble a due con un nano si è giusto si è giusto ah che roba è che roba è vedete lì mi non mi ha fatto controllare vacca via la palla un po' di culo no? no no la patà bellissima bellissima giusto non diamo niente ma che le repliche faccio ma vacca fallo dieci dieci anche questa recuperarla nove dieci vacca di podo un massacro vai tu hai visto vai che li bruciamo dai notte Frank bravissimi oh che tacco tacco filtrat ma cosa è sta roba no no ma che schifo ma è giusto scusa ma che schifo ma l'anti calcio ma è lo schifo eh ma è lo schifo ma che roba ma che schifo la patata è una roba schifosa non abbiamo più voce dai stavamo andando in avanti ma il potato e l'ho dovuto reagire è un fallo di reazione questo qua è giusto ci stava bravissimo sei un sogno di giocatore che si bravo dai che la chiudiamo non c'è più nessuno ma che roba che schifo è sta ma non mi importa è una roba è uno scambio stupendo con una tecnica sopraffina è un contropiede atomico ed è nostra che bellina difesa lì un rischio atomico ma con la tecnica anche qui se la portano avanti con la tecnica lob bellissimo non c'è nessuno ma non c'è nessuno questo buco è un calcio di rigore no eh è un calcio di rigore è un calcio di rigore cercato che schifo non c'è niente tu morì è uno scandalo ma è uno scandalo ma è uno scandalo questo qua si sbaglia tutto tu morì ma cos'è sta roba ma cosa vada che roba non c'è niente ma vada che tristezza ma che tristezza veramente non meritate un cazzo veramente no che roba che spiezzato tantissimo tantissimo del dischetto di Marco che furto che furto ragazzi che furto ma non è colpo vostro è proprio il cretino la su ma che roba il primo sveglia ti va che schifo una resistenza in 10 per 20 anni vanificata da uno scemo che fa un fallo inutile ma guarda che depressione adesso devi beccarne un altro rischio della depressione ragazzi tenete d'uovo con il cuore perché qua è una roba scandalosa dai zitti zitti cerchiamo di fare qualcosa bravo ma questo è Luis ma veritava quella veritava veritava guarda come la copra guarda imparare il fiole di calcio di copertura del pallone ragazzi è bellissimo il tiro e questo patice di no è Luis impossibile lo tirava più forte ancora pensate tutta l'incrocio dove ero no adesso va lo scandalo vedi la tira ribbra eh voglio vedere se ce la facciamo come si fa questo qui condizione lunga la tira questo ci riusciamo come si fa? conferma tira la giro niente non si sa come far confermare zio maiale niente vabbè porto back spizza dai ma cos'è sta roba provare provare vabbè veramente è subito che contro piedi eh no ci dispiace mamma mia sto perdendola dai che va bene suuuu dai che ci siete ancora non lo state tutto vabbè che roba mi ha sotterrato tolu beccati quel fallo qua è rosso eh a centro capo beccatelo 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 questo bel fallo scusa se tu mi avete rubato la partita tecnica 60 ma che schifo dai massalo vai massalo dai distruggilo io ti voglio fare la fede lo scambio col portiere guarda che lavoro non riuscivo più a uscire guarda che falli abito su Ibra Ibra non tutelato veramente distrutto quel giocatore lì buttato via letteralmente ahhhh che bello ragazzo guarda che sfiga è cavacca vuoi fare un bel triangolino non importa al novantesimo ancora tre minuti ancora non hai chance per questo Milan che se ne va a tiagare l'ultimo garage le mette in mezzo al pericolo Ibra ma che roba Ibra che fa fallo è buono a morire grazie Ibraimovic cerca di fare sì l'hai fatto te l'hai fatto nasone la botta nasone incredibile cerca il gol in tutti i modi va bene t'ho visto t'ho visto t'ho visto no così corta no però l'avevo visto ma non così corta idiota bene dai ultime chance Milan allora ultimo farsing di Rossi Nero lo fa che schifo vai ci sta l'ultimo allora sì ci sta lo fa che schifo ora dai però non ci sta allora stavo buttando tutto rosso eh rosso eh stavo buttando tutti cos'è? cos'è? non l'ho fischiato ma scusami perché? no ma ti stai rendendo pronto di che arbitro c'è? ma ma è allucinante è allucinante non sono eri siamo noi è allucinante sta roba ma che cazzo siete voi? controllo 10 fermiamo l'azione non è fermato non è caribile ferma l'azione Loretty oh sono già munito le hao dici 9 supplementari gli fai 9 Loretty che supplementare? eh sì ah ci sono anche i supplementari la supercoppa Loretty che vacche si se ci arrivo i supplementari ma cosa devo fare scusa? non ho capito non lo so ma secondo me l'è Gecko me l'hai distrutto ah bene dai vedi te lo porto vedi Gecko ha subito 47 falli questa partita ci credo che è morto non so che Milano ormai non so come farà a affrontare i supplementari non c'è più nessuno non c'è più nessuno non c'è più sanzi no boh non lo so un dubbio terribile si l'ha capito vai è terribile è terribile è terribile è un dubbio terribile vedremo eh ragazzi io non posso riprovare eh lo so via è importante divertirsi dai ancora Cassie e si va i supplementari ragazzi si va i supplementari eh con un mille con 11 tiri a 5 a 5 che però è 2 a 2 e gara in modo dell'Inter e fra l'altro sta giocando con 2 in meno eh con questi supplementari quindi non so come finirà ma secondo me sarà veramente dura voglio andare obiettivo rigore raga sarà una sorpresa incredibile ma siamo in 2 in meno quindi non so come facciamo siamo tutti arroccati in difesa con uno al centro campo e uno ad attacco è una roba del genere proviamo a fare un miracolo ma è dura veramente dura eh specialmente se perdiamo i palloni ma è normale perderli eh si ma che si è presente eh che si è presente spinge eh che si se ne va che si e devi dare che tocco abbiamo fatto in difesa lì pure sono morto si veramente il pubblico è morto nei supplementari non si sa perché sono K.O. il pubblico niente vabbè è morto il pubblico ragazzi prendiamo uuuuh quello roba lì cotopiede benissimo no niente peccato scusa scusa abito scusa scusa non lo volevo fare l'ho fatto ma non lo volevo fare c**o 9 niente vabbè ragazzi qua è 2 ma è veramente 2 adesso dobbiamo provare il c**o ma che Bucca gömbi lo hanno mutolito ha mutolito vabbè in faccia va che viola hai basta ma che fallo ma che fallo ma bella pizzi fallo per me sarebbe i pallacci che fai va bene dai il pubblico è andato a casa veramente, venosi ma chi c'è? non c'è nessuno non ti gioco, non c'è nessuno il pubblico morto io devo giocare senza pubblico in nove ma no è bello questa palla qua per rimbarare senza pubblico è tristissimo dobbiamo fare tutto da noi cronica, qualsiasi cosa eh ammazzo stavo potando ragazzi qua resistere è praticamente impossibile lo dico, cioè essere sempre qua perché non c'è nessuno davanti tenila lì, subisci palla qualche volta se la fai e va che roba però ma potalo, ma che schifo no ammazza no no fischia se ne va vabbò ma ti schifo è toccato fuori il rosso, a casa scusa abito, scusa ma scusa toccato scusa abito scusa peschevi peschevi ma dai ti sembra un fallo è delicatissimo allora che roba ti ha spezzato le gambe questo è spezzaschiera si chiama dai sbaglialo almeno sbaglialo sbagliato oh no oh no vieni scusa oh tira libra mi occhi ii dai va bene ma cavalchi no il mio non cavacca neanche ma che bravo ragazzo ma che bravo ragazzo so che sei veramente bravo oh vabbè che palle gli ho dato peccato che non sono riuscito ahhh ma ecco non sto più in piedi ha fatto anche troppo fatto cosa devi fare ma guarda che stile eh bravo è un missile quello là ma è Hernandes Teo se va dunque sono Michaletto ho visto è Hernandes Teo che roba e ti tiene dietro ti sbatte via anche e se ne va e Tio Hernandes Chipmans la dà bravissimo e ma come fai non ci vibra ma che schifo bravi figlio che cuore c'avete ma che cuore c'avete mamma mia che cuore ma che cassetti però però il cuore incredibile eh pirlo c'è il campo perché non ci sono i giocatori ma pirlo c'è e vaga che roba che numeri ma che numeri bravi però è incredibile con due in meno cercano di far imbastire qualcosa e vacca dai dai uno contro uno dai Norton ma vacca che c***o c'hai no è incredibile fa qualcosa incredibile veramente scandalo ancora la prendi ancora qualche volta magari fai gol tu frizz schifo tu frizz tu frizz tu frizz tu frizz ma c***o no ragazzi in tutti i mondi si potrebbe rendere gol ma così no però tu frizz senza pubblico la rimonta senza pubblico e in una maniera in una maniera che è rocambolesca ma che roba e mi torna sui piedi resiste alle bombe che c***o ragazzi tu frizz solo così potrebbe finire lo sapevo lo sapevo che finiva così e niente e ora c'è un cambio adesso becchero altre 30 gol che rimonta ma che rimonta tu paghi i tuoi fallacci paghi il tuo gioco sporco ma no ma no paghi il tuo gioco sporco ma scomera traggiati due rossi pago sul 2-0 avrà calato come dire il ritmo e via paghi il gioco sporco ho beccato quel gol là e avrai fatto la partita fa c***o quello si mi sono fatto un autogol e un rigore inventato vabbè ma figa ma l'abito ma esisti no il segreto adesso ma non esiste per te è esistito molto l'abito si va ai secondamentari ancora in vantaggio come possiamo sentire uno scandalo veramente in due in meno eroici comunque eroici ho beccato un gol così e meno lo becchavamo a regolare ma non è regolare no eh regolare prendono un gol su azione non un rimpallamento atomico come è successo una sfigga clamorosa ma cos'è non è credibile però su eh culo fuori dai e poi stiamo sempre qua dai stiamo qua pubblico esiste quasi più dai facci meno dentro dai guida su e qua finita che roba niente ma cos'è sta roba si fa a caso mentre noi giochiamo con la tecnica che roba che finita neanche Messi farebbe vittima in difesa ma che roba è tutto un dribbling qua con due persone in meno non c'è che di dubbi anche tutti no già munito se ne vai anche tu però allora non è meno male meno uno che se ne va che parola dai una chance dai una chance un barallo in meno noi ce ne abbiamo due ce ne abbiamo due dai c'è ancora una chance su eh voglio che fa che non esiste l'abito non esiste dove è la palla mmm è data bene e va come resiste le bombe che roba qualcuno che arriva magari dammi una mano no e va che non resiste neanche Ipola cos'è un catterpilla che schifo dai devo fare quante ma veramente no veramente dove c'è la colpa non me lo sento mai no dico il contropiede in vero becca bella la vacca incredibile dai la potà 1-2 bellissimo e viene podato in una maniera vergognosa lui meno che si si spende cessi no no che si vota 8 e me da 0 a 8 8 da 0 a 10 10 salva la sua porta l'ennesima volta no dai alziti cammina su ultima chance fino a lì bravissimo bravo Ipola non va che lui ci spende quella vacca no dai no questa è la tegola questa è la tegola veramente e va che brav basta è rigore figa ma è rigore ma è incredibile ma è incredibile non stai in piedi dico bastardo no perché dove fai non stai in piedi non stai vedi che catticolo ma cagare non è rigore niente sembra io un coso lì cent'anni che sai c'è qua c'è cosa non si è visto eh sì quando si vede però ti fa gol dopo il problema è quello lì finché non si vedi va bene quando poi lo vedi ti segna diventa un problema è quello lì via via queste cagate qua dai andiamo solo cavallo anche quella fascia lì d'Arnandes ci vai o no ti fai schifo non sai neanche cosa su quella fascia lì chiota dai dai che la perdono di piede può capitare una cazzata può capitare bene che la spazza dai va bene va bene marcatroia che piede ottimo ma fai schifo abitro però sbutto la via e l'abitro lascia andare bellissimo guarda che roba è dai che ne sbaglia dai correre dai che è finita questa partita di merda guarda che che milinao guarda che non meritano guarda che melinano guarda che roba scandalo scandalo veramente guarda che melina che schifo che schifo melina che sono i due in più ma questo è veramente vergognoso vedere la melina è comunque vergognoso ma non vi vergognate no credibile non la giocano più hanno smesso di giocare scandalosi sì che ho che vergogno meriteresti di beccare infatti due minuti sono andati lo so fate schifo però veramente schifo tutta Italia ha visto quanto avete fatto schifo in quel azione lì meritavo il gol è una vergogna cos'è sta roba è sì root perché cioè ha munito cioè così inventato perché devi la gomitata lo annullava ma questo eh l'avevo annullato che schifo annullato che vergogna vergogna instancabile che sì porta la croce bravo bravo che schifo non mi rendete un cazzo però che che vergogna che vergogna la rimonta e lo porta a casa guarda come c'è esatto questo qua si schifo si schifo si schifo vabbè ragazzi chiedi scusa scusate ma scusa bene signori milanisti purtroppo sul 2-0 ho creduto di aver già vinto e ho beccato un 2-1 sanguinoso e poi soprattutto mi sono fatto espellere con dei falli inutili e quindi la partita è fideli un 2-2 in meno purtroppo però il 2-2 è stato beccato con un gol assolutamente rubato ah perché il tuo rigore cos'era e questo qua non hai fatto un gol eh in 120 minuti in sua azione non hai fatto un gol e vabbè boom vabbè Cassi 9 e mezzo ma guardiamo i voti guardiamo non lo fai in testa guardiamo i voti ok allora possesso mio tiri miei e ho perso tra 2 in rimonta perché ero in 2-0 e ho fatto possesso e tiri eh dentro questo andiamo a vedere i voti dove Cassi ha preso 7 e mezzo ma uomo del mezzo Dufris 7 e mezzo ha preso Cassi comunque 7 e mezzo ti ho detto che Cassi aveva giocato da Dio e infatti ha preso 7 e mezzo Ibra 4 Ibra 4 è scandaloso comunque non ho 4 non l'ho mai visto no si è visto che due volte si è fatta parare ho sbagliato il gol non puoi sbagliare un rozzo di 7 e mezzo niente ragazzi è finita così l'Inter ha vinto 3-2 ai tempi supplementari vedremo come finirà un saluto a tutti ciao ciao un buon grazie